Il mercato ha i massimi storici, l'inflazione sta esplodendo come negli anni 70, l'Europa si disintegrerà, l'America andrà in guerra con la Cina. Insomma, se abbiamo soldi investiti, dobbiamo preoccuparci. Quante volte sentiamo sui media finanziari le parole paura, preoccupazione, pericolo, panico? In questo video voglio cercare di fare un debunking delle paure che i media e il sistema finanziario instillano nell'investitore che si affaccia sui mercati finanziari. Se vi piace il video, mettete like, iscrivetevi al canale. Io sono, come sempre, Alessandro Lazzaro e vediamo quindi quali sono queste paure e perché il mondo dovrebbe crollare domani. Prima paura. Le aziende europee sono condannate ad avere bassi ritorni. Gli scorsi dieci anni non sono stati un granché per l'Europa. Questo va detto. Abbiamo affrontato la crisi dell'euro, siamo rimasti indietro sulla tecnologia, con il risultato che le aziende europee hanno fatto molto peggio di quelle americane. Eppure non è sempre stato così. In passato le nostre aziende sono riuscite a tenere testa e a volte anche a fare meglio di quelle americane. Nulla vieta che nei prossimi dieci anni non succeda lo stesso. Inoltre, le aziende europee hanno generato ritorni, seppur inferiori a quelle delle aziende americane, molto superiori rispetto a quelle giapponesi e a quelle dei mercati emergenti, esclusa la Cina. Dopo dieci anni di pessimismo, gli investitori hanno lasciato le aziende europee con delle valutazioni molto migliori rispetto a quelle americane. Se avete paura di bolle e crolli di mercato, è più probabile che troverete rifugio a casa vostra che non in giro per il mondo. Seconda paura, il mercato americano crollerà come ha sempre fatto. Gli americani possono essere esasperanti a volte con la loro ossessione per i soldi. Storicamente questo li porta ad affrontare crisi finanziarie a ripetizioni. Prima le azioni, poi gli immobili, poi di nuovo le azioni e così via. Siccome il mercato americano ha i massimi storici, è sicuro che prima o poi crollerà. E quindi? Scusate, quante volte è crollato il mercato americano? Tantissime. Forse che l'America è rimasta indietro? No, sembrava che fosse alla frutta dopo la crisi del 2008 e invece ha tirato fuori dei colossi tecnologici che adesso dominano il mondo. Mentre dico questo video, pensate che tutto il mio business si basa su prodotti americani. Che crolli pure. Per chi come noi sta accumulando per il lungo termine, è una manna dal cielo. Perché siamo sicuri di investire a prezzi bassi e di partecipare al meglio al prossimo boom dell'economia americana. Vi può sembrare una visione ingenuamente ottimista, ma non è così. Il mercato americano crolla perché è pieno di sciocchi che investono a debito e quindi devono andare a vendere forzatamente, creando un effetto a cascata. Ma le aziende sono molto più solide di quello che sembra. Pensate che nel biennio 2008-2009, all'apice della crisi che colpì il mondo, le aziende americane tagliarono il dividendo solo del 25% e nel 2020 solo del 5%. Non vedo l'ora che crolli, così comprerò quelle ottime aziende a un buon prezzo. Terza paura. I mercati emergenti continueranno a incorrere in crisi cicliche. Vero. E quindi? I mercati emergenti comprendono un gruppo enorme di paesi, anche molto diversi tra loro. Non c'è nulla che eviti di investire in modo più preciso. La Cina non è il Brasile, per dire. Inoltre, bisogna dare il giusto peso alle cose. Est modus in rebus, dicevano i romani. Ho fatto un video, infatti, dove spiego perché non investo nell'indice mercati emergenti, ma nulla toglie che possa prendere esposizione ai mercati emergenti in altro modo. Ad esempio, in modo più granulare, quindi sul singolo paese, o, all'incontrario, in modo più omnicomprensivo, come un indice all world. I mercati emergenti sono economie ad alto potenziale, ma anche ad alto rischio. Basta investire la giusta proporzione in modo da essere esposti alla nuova stella, come fu il Giappone degli anni 60 e 70, la Cina degli anni 90 e i 2000, e chissà chi sarà il prossimo. Forse il sud-est asiatico, l'India o il Sud America, non lo sappiamo. Ma così come non ci faremo trovare sovraesposti, così non bisogna farsi trovare impreparati. Quarta paura. Le obbligazioni sono una perdita di soldi sicura. Dipende da che tipo di investimento stiamo parlando. Certo, se l'investimento è a lungo termine e l'alternativa è tra investire nelle migliori aziende europee e americane o prestare i soldi allo Stato all'1%, probabilmente la seconda opzione è una perdita di soldi. Ma ci sono delle situazioni in cui non si può che investire in obbligazioni. Per esempio, se l'investitore si aspetta di aver bisogno di soldi tra qualche anno. Le azioni funzionano, ma nel lungo termine. Se avete scaricato il manuale Accumulare Ricchezza, sapete anche il motivo, e cioè per via dei cicli economici. Lo stesso vale per gli immobili. Da qui a 5 anni, il modo migliore per essere sicuri di riavere indietro i vostri soldi è investire in obbligazioni. Meglio titoli di Stato a breve e medio termine. Quinta paura. L'oro scenderà sicuramente di prezzo. Certo, lo fa sempre. Quando gli investitori hanno paura dell'inflazione, il prezzo dell'oro sale. Quando le paure se ne vanno, l'oro scende, visto che non rende niente di suo. Ancora una volta, est modus in rebus. L'oro non è un investimento, ma un'assicurazione. Al di là del fatto, se abbia senso o meno questo tipo di assicurazione, bisogna trattarla come tale. Cioè, darle il giusto peso e, onestamente, essere contenti se scende, perché vuol dire che le cose stanno andando bene. Quindi, che il prezzo dell'oro salga o scenda, non ce ne importa niente, perché non è quello lo scopo del metallo giallo. Per concludere, la lista delle paure nei mercati finanziari è potenzialmente infinita. Un po' perché a voler trovare i problemi è sempre facile, un po' perché la parola paura cattura l'attenzione. I media sono infarciti di queste notizie e ne continuerete a sentire a oltranza. Io penso questo. Una volta che siete sicuri di quello che state facendo, ignoratele. Non vendereste mai la vostra casa perché avete paura che i tassi di interesse salgano o perché tutti parlano di una bolla, giusto? Allora, perché dovreste vendere le vostre aziende o un pezzo di Stato se sapete che sono l'investimento migliore che c'è? Come direbbe Dante, non ti curar di lor, ma guarda e passa. Se vi è piaciuto il video, mettete mi piace, iscrivetevi al canale. Se siete interessati a capire come funziona l'economia e come potete cominciare a muovere i primi passi nel mondo degli investimenti senza paure inutili, potete scaricare il mio manuale gratuito Accumulare Ricchezza, di cui trovate il link in descrizione qua sotto. Io sono Alessandro Lazzaro e ci vediamo nel prossimo video.